Dal Vangelo secondo Marco Gesù prese a parlare loro con parabole Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote Mandò loro di nuovo un altro servo, anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono Ne mandò un altro e questo lo uccisero Poi molti altri, alcuni li bastonarono, altri li uccisero Aveva ancora uno, il figlio prediletto Lo inviò loro per ultimo dicendo avranno rispetto per mio figlio Ma quei contadini dissero tra loro Costui è l'erede, su uccidiamolo e l'eredità sarà nostra Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata la pietra d'angolo È il Signore che ha fatto questo ed è una meraviglia ai nostri occhi E cercavano di catturarlo ma ebbero paura della folla Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro Lasciatolo, se ne andarono Bene fratelli è lunedì, un altro lunedì Si apre davanti a noi un'altra settimana Lavoro, studio, le solite cose È la routine che ci spaventa La routine che sembra mangiarci È come qualcosa che erode da dentro Che ci consuma È vero? Molte volte abbiamo paura Abbiamo angoscia Di fronte a quello che dobbiamo vivere Quante volte gli impegni gravano su di noi come qualcosa Come un peso Che ci schiaccia il cuore Ci schiaccia la mente E tanto è il peso Che neanche riusciamo a fare le cose Che non sappiamo da dove prenderle Al lavoro Nello studio per esempio Di fronte agli esami Si avvicinano gli esami Gli esami di maturità Gli esami delle medie Gli esami dell'università Gli esami nel seminario Ma anche questo vale per le relazioni Certe relazioni così difficili Così complicate Che ti sembrano proprio mangiarti Territori della tua vita Territori della tua anima Territori della tua mente Ti trovi sempre più indifeso Sempre più solo Il lunedì è anche tutto questo Vero? Ma oggi è un lunedì Che segue La solennità del Corpus Domini Ieri abbiamo potuto fare qui Vicino alla casa dove sono in missione Una breve processione La prima Dopo vari anni Mi trovo qui in questa casa È stata la prima volta che ho potuto fare questa processione Con alcuni fratelli della missione Pioveva Ma è stato molto bello perché Queste parole del Cardinale Ratzinger Del Benedetto XVI Di cui vi parlavo ieri Mi hanno aiutato molto Mi hanno veramente spinto A fare questa processione Portare Il Santissimo Per immergerlo Nella vita Nella vita Nella vita Delle persone che vivono qui accanto a me Attraverso le strade Attraverso I vicoli In mezzo alle macchine anche Per immergere Immergere Gesù Cristo Nella vita Nelle sofferenze Nei dolori Nelle angosce Nelle paure Delle persone È stato bellissimo Anche perché Ero unito Ai fratelli che sono in missione con me Era un popolo Piccolo Un piccolo resto Un piccolo popolo Anche c'erano dei ragazzi Poi abbiamo fatto i Vespri Solenni Con l'adorazione Siamo stati Un tempo in adorazione Nel Santissimo E vedevo come ai ragazzi Questo ha aiutato tantissimo Anche a prendere Più consapevolezza Della santità Della propria vita Del senso profondo Della propria vita Che è proprio questo Lasciare che Cristo Si immerga Nella nostra esistenza Prenda possesso Di ciascuno di noi Perché Ci trasformi In se stesso E trasformi La nostra esistenza In un tabernacolo Da portare in processione Con rispetto Con venerazione Come in una Solemne liturgia Per questo Il lunedì che ci aspetta Questa giornata Questa settimana Come ogni giorno Nella nostra vita Acquista un valore E un senso Profondissimo Leggevo Il Leggevo Un brano Di San Cilio di Gerusalemme Che Che mi colpiva molto Eh Una quarta catechesi Mistagogica Riguardando Che riguarda Che riguarda La comunione Accedendo alla sacra mensa Non ti presentare Con le palme distese E le dita Di giunte Ma collocando La sinistra A forma di trono Sotto la destra Che deve raccogliere Il re Tenendo la destra Raccolta e concava Ricevi il corpo Di Cristo Rispondendo Amen E dopo aver Cautamente Santificato I tuoi occhi Col contatto Del sacro corpo Mangialo Badando attentamente Che nessuna parte Di essa Vada dispersa Perché se ne lasciassi Perire qualche frammento Devi reputare Di aver perduto Una parte Delle tue stesse membra Vedete fratelli Che meraviglia È la nostra vita Cioè le nostre membra Sono unite a quelle Di Gesù Cristo E se Lasciamo cadere Un frammento Lasciamo cadere Un frammento Del corpo di Cristo L'abbiamo ricevuto Che riceviamo nelle mani Che riceviamo nel nostro corpo Che ci unisce A lui Ci trasforma in lui Buttiamo via E perdiamo Parte Delle nostre stesse membra Cioè la nostra vita È preziosa È meravigliosa Ed è fondamentale Per la salvezza Di ogni uomo Che c'è accanto Capisci quanto è importante La tua vita Questa settimana È una meraviglia Questa settimana Tutto quello che ci accadrà Tutte le strade Che percorreremo La metropolitana L'autobus E i negozi E gli uffici La scuola Agli amici I compagni I colleghi I professori La fidanzata Il fidanzato La moglie Il marito I figli I vicini di casa Quelli che incontreremo Nei negozi A fare la spesa Nella fila Per pagare le bollette A qualsiasi impegno A qualsiasi situazione La malattia Le difficoltà Le analisi Forse la malattia terminale Di tua madre Forse la difficoltà Economica Forse l'angoscia E la trepidazione Per tua figlia Che è lì In un letto d'ospedale Malata Forse sei incinta Forse hai paura Di partorire Forse devi sposare E hai paura Forse stai Immerso Nella preparazione Del matrimonio Eccetera Non sappiamo Ognuno di noi Ha la sua vita Ma è preziosissima Perché le tue membra Le tue membra Sono le membra di Cristo Cristo è stato deposto in te Cristo è il frutto Di cui parla oggi il Vangelo Cristo seminato in te Questo uomo è il padre E Dio che ha dato la sua vita per noi Cioè che ha dato la sua vita Nel suo figlio per noi Ci ha consegnato Un seme di vita eterna Capace di produrre frutti Cioè opere di vita eterna Cioè di fare della nostra vita Un segno Un sacramento di salvezza Per tutte le genti Di fare di ogni nostra ora Di ogni nostra attività Di ogni nostro pensiero Di ogni nostro sguardo Di ogni nostra parola Un segno Un sacramento Di salvezza Per chi ci è accanto Dicevamo che Il sacramento È un segno Che realizza Ciò che Significa Ciò che Manifesta Ciò che rivela Allora Che cosa riveliamo Noi Cristo E quindi Se la nostra vita Se i nostri atti Se i nostri gesti Se le nostre parole Se i nostri atteggiamenti Realizzano Ciò che la nostra vita Significa Cioè la vita di Cristo In noi La vita unita a Cristo La vita eterna Già operante Dentro di noi Allora saranno frutti Meravigliosi Allora saranno frutti Da consegnare Costantemente A chi con noi È socio Attenzione È socio Della nostra vita Partecipa Perché Noi siamo soci Di Dio A noi è stato affidato Come degli affittuari È stato affidato Questo come un franchising Capito? Abbiamo la vita In franchising E Dio ha fatto tutto Bellissimo Perché Dio Veramente Ha fatto tutto per noi Dice qui Che piantò una vigna La circondò con una siepe Scavò una buca Per il torchio E costruì una torre Allora Ha piantato la vigna Sì Ha piantato Come il popolo di Israele Come la chiesa Come la comunità cristiana La tua vita La tua vita Parliamo della tua vita oggi Eh L'ha piantata lui L'ha circondata con una siepe Che è la parola La Torah Eh Secondo i rabbini Che è una siepe perché Per proteggere la primogenitura Il cammino della vita I comandamenti No? Che sono Il cammino della vita Abbiamo detto È una missione Sono una missione Costituiscono la nostra missione Descrivono la nostra missione I comandamenti La parola La parola che ci è annunciata I cinque pani Di cui parlavamo ieri Il lotto E della Torah Che ci aiutano A vivere Ma non solo ci aiutano Sono anch'essi piantati Accanto a noi Per proteggerci Per illuminarci Lampada ai miei passi La tua parola Per questo l'ascolto Quotidiano della parola Scrutare la scrittura Avere tempo Ogni giorno Come sempre ripete Papa Francesco Ma come ripeteva Giovanni Paolo II Come ripeteva Benedetto XVI Come ripetano Ogni Pare della Chiesa Ogni maestro Nella vita spirituale Prendere la Bibbia in mano Ogni giorno Passare tempo con la Bibbia Piuttosto che con altre stupidaggini Mettere al centro Nella nostra vita La scrittura Che è la nostra siepe È quella che ci protegge Dagli attacchi del demonio Ebbene Ha piantato Ha fatto una buca Per il torchio Voi sapete che il torchio è dove Si Si produce il vino Dove si pigia Dove si torchia l'uva Perché possa uscire Il nettare Perché possa uscire Il succo Il vino Che diventerà poi vino E questo torchio è la croce La croce del nostro Signore Gesù Cristo Lui Che ha pigiato Come dice Isaia È una profezia bellissima Da solo Da solo Nessuno era con me Quando io ho pigiato L'uva E mi sono macchiato Tutte le vesti di sangue Perché ho dato la mia vita Perché quell'uva È Cristo È Cristo pigiato Nella nostra vita I sacramenti Vedete La comunità cristiana La nostra vita Dentro la comunità cristiana La nostra Dite È la comunità cristiana Dove ascoltiamo la parola Dove la parola ci protegge Ci illumina Ci dà vita E i sacramenti Che realizzano in noi Ciò che la parola ci annuncia Fanno carne E in noi la parola È una torre È una torre A guastare la vigna Sapete Nel cantico dei cantici Quando parla Dell'arrivo Dello sposo Bellissimo E lo sposo Chiama La sposa Alzati E vieni Mia bella Vieni con me Andiamo Andiamo perché L'inverno è passato Perché è arrivata la Pasqua Perché è arrivata la vita nuova Vieni Diamo i frutti Diamo i frutti I frutti primaticci Della vita eterna Entriamo nella vita Insieme Appoggiati Al nostro amato Trasformati Nell'amato Trasformati in Cristo E dice Cacciate via le volpi Le volpi Quelle piccole Che guastano la vigna Lo sposo Viene nella sua vigna Lo sposo Viene a prendere i frutti I frutti dell'amore Vedete che nel cantico Dei cantici Si parla Con immagini bellissime Anche dello stesso Amplesso Dello stesso amore Delle fusioni Tra lo sposo E la sposa Perché lo sposo Ha un diritto Sulla sposa Ma il diritto Di qualunque sposo Su qualunque sposa Quale? Quello di averla comprata A caro prezzo Di aver dato la sua vita Allora si comprende La parabola di oggi Molto dura Contro il nostro uomo vecchio Dice Parlò contro di loro Parlato contro l'uomo vecchio Che Tutto questo dono Che è la nostra vita Tutte le grazie Che Dio ci ha concesso Da quando siamo nati A oggi Le grazie che ci concederà Oggi Che ci concederà domani Per entrare nella vita E dare frutti Per essere questa vigna Meravigliosa Che Dio ha piantato Per la quale Dio ha fatto tutto E che ci ha affidato Ci ha affittato E noi siamo Dei fittavoli Cioè Noi partecipiamo Della stessa vita di Dio Dice la prima lettura Meravigliosa Che è forse La spiegazione migliore La più bella omelia A questo Vangelo Dalla seconda lettera Di San Pietro Dice Carissimi Grazie a voi E pace Siano concessi A voi in abbondanza Mediante la conoscenza Di Dio E di E di Gesù Cristo Nostro Signore La sua potenza divina Ascoltiamo La sua potenza divina Ci ha donato Tutto quello Ripeto La potenza divina Ci ha donato Tutto quello Che è necessario Per una vita Vissuta santamente Grazie alla conoscenza Di colui Che ci ha chiamati Con la sua potenza E gloria E questo lo sperimentiamo Nella vigna Nella chiesa Con questo Con tutte queste grazie Con tutto quello Che è necessario Per una vita Vissuta santamente Egli ci ha donato I beni grandissimi E preziosi A noi promessi La pace La pace La salvezza La gioia L'amore La misericordia Lo Spirito Santo Che porta con sé Tutto La conoscenza L'amitezza E il dominio di sé Tutto Affinché Per loro mezzo Per questi doni Dello Spirito Santo Voi Diventiate partecipi Della natura divina Sfuggendo alla corruzione Che è nel mondo A causa Della concupiscenza La siepe Ci aiuta A sfuggire Alla corruzione Ci separa dal mondo Per servire il mondo Per dare frutti Al mondo Frutti di amore Di misericordia Perché nel mondo C'è una corruzione Che è dovuta Alla concupiscenza La stessa Che era entrata In questi fittavoli In questi contadini Malvagi Come accade a me A te E qual è la concupiscenza? Quella Antica Quella originale Il peccato originale La superbia Appropriarsi Della eredità Capite La La contraddizione Profonda Che Che sempre Ci fa Inciampare Che sempre Ci distrugge La vita Quale? Quella di volerci Accaparrare Di volerci Appropriare Di ciò che invece È un dono Perché l'eredità È un dono Io sono erede In virtù di un diritto Che non mi sono preso Da solo Perché io sono erede Di mio padre E io non ho scelto Di essere figlio Di mio padre Assolutamente A me è stata data In affitto Per così dire La stessa natura Di mio padre Lo stesso cognome Lo stesso nome Di stessi tratti somatici È vero o no? Allora Ma questo non ho fatto nulla Per averlo Soltanto Sono chiamato a custodirlo Ma anche la custodia Anche la difesa Anche la temperanza Anche il combattimento È opera di Dio Perché la vigna L'ha piantata lui La vigna è opera sua La vigna è Proprietà sua Allora fratelli Se alcuni di noi oggi Si sentono male Sono frustrati Sono stanchi Hanno paura Ad entrare In questa settimana Nelle relazioni Che le aspettano Nella sofferenza Nel dolore Nella precarietà Coraggio Perché dietro Tutte queste difficoltà C'è in fondo La superbia antica C'è la superbia Che Che ci Che il demonio Ci ha instillato dentro E ha reso la nostra vita Una vita piena Di concupiscenze Per concupire Per Appropriarci Moglie Marito Figli Lavoro Per saziare il nostro ego Per saziare il nostro io Per saziare la nostra carne Ormai corrotta Dalla menzogna Perché non siamo Dio E Dio Non è quel mostro Non è quel padrone Cattivo Che spesso il demonio Ci insinua Non è così Noi siamo partecipi Guardate che la costruzione E i termini usati In greco Dicono proprio questo Ed è quello che Ed era la forma In cui Si affidavano A quel tempo Le vigne I campi Ai contadini È interessantissimo Come una Compartecipazione Per questo dice Che il re voleva La sua parte La sua parte Quella che gli spettava Cioè della tua vita La tua vita La vita Della comunità cristiana È Compartecipata con Dio Dice siamo collaboratori di Dio Ma non nel senso Che noi siamo pari con Lui No Ma è talmente grande L'intimità Partecipi della sua natura Partecipi della natura divina Per cui diventa tutto naturale Non è un commercio Non è uno sforzo Non è un dare avere Non è così Quello che è mio È del padre Quello che è il padre mio Dice Cristo Ma che è di Cristo Partecipi della stessa relazione Che ha il figlio con il padre Allora La tua vita È proprietà del padre E parte Come dire È sua E ci è data E ci è stata consegnata Per dare gli stessi frutti Che il padre ha pensato Ha stabilito Desidera E per la quale ha fatto tutto Noi siamo Soci Soci in affari È un affare di Dio È nostro La nostra vita Perché abbiamo una responsabilità Perché siamo liberi Perché non siamo degli automi Perché soffriamo Perché nella libertà Si insinua il demonio Dice E allora Tacitiamo tante volte i profeti Che vengono nella nostra vita Per annunciarci il Vangelo Per dirci la verità Per Dammi frutti Ma siccome non li hai E li vuoi tenere per te E li abbiamo tante volte Prostituiti Pervertiti Abbiamo cambiato La natura stessa La natura stessa dei frutti E diventano cosa nostra Che non vogliamo spartire con nessuno Allora è chiaro che tu devi Far tacere tua moglie Quando ti dice la verità Far tacere tuo padre Quando dice la verità Far tacere Quel catechista Quel prete C'è le persone E spesso anche gli stessi fatti Che vengono a visitarci Noi scappiamo da essi Perché Perché ci dicono la verità Dove sono i frutti Ho fatto tutto Come stai Amministrando Come stai coltivando La tua vita Allora Se è vero tutto questo La parola più grande È che Per salvarci Questo padrone Questo Uomo Questo Dio Meraviglioso E buonissimo Che è un padre Manda il suo figlio prediletto Il suo figlio diletto Il suo figlio che ama Abbiamo rispetto di lui? No Non abbiamo avuto rispetto di lui Perché È molto profondo Fratelli Oltre Ad uccidere Noi dobbiamo Mancare di rispetto a Dio Perché Perché Dio non può essere Dove c'è un altro Dio Dobbiamo annichilirlo Dobbiamo umiliarlo Dobbiamo trattarlo da peccato Capito? Questo è quello che è successo a Cristo E lui che è stato preso E ucciso E buttato fuori dalla città Fuori da Gerusalemme Come i peggiori dei peccatori Come proprio quello che non ha nessuna Più nessuna dignità Ma quell'uomo Buttato fuori Dalla vigna Sei tu Sono io Perché chi è stato Che è stato No? Diventa qualcosa da disprezzare E infatti ci disprezziamo E infatti ci distruggiamo Infatti Pecchiamo E Accumuliamo peccati E allineiamo peccati Davanti Dietro a peccati Perché? Perché Perché entriamo in un vortice Di disprezzo Di autodistruzione Che è esattamente l'obiettivo del demonio Di cancellare in noi La natura divina Di cancellare in noi L'immagine e la somiglianza con Dio Di strapparci dalla società Che Dio ha stipulato E ha fatto con noi Attraverso l'alleanza Come ha fatto col popolo di Israele Per questo Cristo È inviato ed è ucciso E si lascia uccidere Per andare a prendere Fuori dalla città La vita che noi avevamo già gettato Fuori dalla città Fuori dalla vigna Fuori dalla volontà di Dio Fuori dalla gioia Dalla pace Dall'intimità Dal compimento Della nostra vita Cristo si fa maledizione Per prendere i maledetti Si fa uccidere Da chi lo maledice Per prendere proprio Chi lo maledice Perché chi maledice Dio È maledetto Chi frustra l'opera di Dio È un frustrato E Cristo viene Proprio lì Per questo viene E con questo Con questo Con la morte di suo figlio Decreta la morte di tutti Questi contadini Immagine dell'uomo vecchio Che frustra E distrugge L'opera di Dio E si vuole appropriare Della vigna E dei suoi frutti Della propria vita Capite? La morte di Cristo Nella morte di Cristo C'è la morte Come conseguenza C'è la morte Di tutti i contadini Dice L'amore di Cristo Ci spinge Sapendo che uno Al pensiero Che uno è morto E quindi Tutti sono morti Cioè tutti I contadini Sono morti Perché è morto Il figlio Ma viene consegnato Ma viene consegnato Ad altri Perché chi è vivo In Cristo risorto Questi altri L'uomo nuovo L'uomo L'uomo dello Spirito Santo L'uomo che rinasce Nella Chiesa Non viva più Per se stesso Ma per colui Che è morto E risorto Per lui Quindi per dare frutti A lui Per consegnare a lui Il suo stesso amore Moltiplicato Dentro di noi Per offrire I frutti Come? Andando Per le strade Entrando nella storia Per questo La pietra scartata Dai costruttori Quella È diventata Testata ad angolo Cioè ciò che noi Abbiamo scartato Nella nostra vita Perché volevamo Costruirla Con le nostre forze È diventata Testata ad angolo Nella nostra vita Cioè proprio Cristo Che noi abbiamo scartato Perché volevamo Fare la nostra vita E dare i frutti Soltanto per noi Dare i frutti Soltanto al nostro ego E per stanziarci Bene Questa pietra Che abbiamo dovuto Scartare Per realizzare I nostri progetti È diventata Testata ad angolo Quando? Quando Quella costruzione falsa Illusoria Quella torre di Babele Quel grattacielo L'egoismo Il lanciato all'egoismo Che la nostra vita È precipitata per terra Che cosa è rimasto Dopo un terremoto Dopo uno tsunami L'unica pietra Che ha resistito Alla morte Che ha vinto Contro la morte Contro il terremoto Contro il peccato Il peccato Ha distrutto tutto Tutta la nostra vita Tutta la nostra vita Dell'uomo vecchio Frutto dell'uomo vecchio Distrutta Rimane Cristo L'unica pietra Nella nostra vita Che non è distrutta È Cristo Per questo Su di lui Possiamo costruire La nuova vita La vita nuova Camminare in una vita nuova Che dia frutto Che viva dentro Questa Vigna meravigliosa In società con Dio Per dare frutti Perché ogni frammento Della nostra vita È prezioso Ogni piccola Mollica Di quel pane Benedetto L'abbiamo celebrato ieri È prezioso Ogni istante Della nostra vita È per i pagani È per la donna Sirofenicia Che dice Ma io non mi voglio Io Gesù dice No, non è bene Dare il cibo Dei figli Ai cani I cani erano i pagani No? Non è giusto Ma questa donna dice Ma è vero Io non voglio mangiare lì Io voglio soltanto Che mi curi mia figlia Guarda Una briciola Come quelle che Mangiano i cani Sotto alle tavole Sotto alle Allora Capiamo la vigna Capiamo l'eucaristia Capiamo il torchio Capiamo la presenza Di Gesù Cristo Che ci riscatta Per trasformarci in pane E fare della nostra vita Delle briciole Delle briciole Che Giorno dopo giorno Istante dopo istante Momento dopo momento Situazione dopo situazione Cadano nelle mani Dei pagani Di quelli che forse Non entreranno mai in chiesa Forse di tua nipote Forse di tuo cugino Quel frutto Quel pezzettino Quel frammento Così prezioso Che è la tua vita Sapete che C'è la purificazione Dopo la messa Dopo la consacrazione Dopo la comunione I sacerdoti Purificano I vasi sacri Il calice Il piatto Perché neanche un piccolissimo Invisibile frammento Di ostia Vada perduto Quella venerazione Data al corpo di Cristo È la stessa Che Gesù Cristo Va per noi Perché se è dato a noi Non va perduto nulla Della nostra vita Anche un frammento Invisibile In quel frammento invisibile Dice la teologia cattolica C'è tutto Dio Allora in quel frammento Invisibile della tua vita C'è tutto Dio In quel frutto Piccolo Invisibile agli occhi Forse Degli altri Che Forse un tuo sacrificio Forse Una sofferenza offerta Per tuo figlio Senza che nessuno lo sappia Qualcosa di piccolo Piccolissimo Ha un valore infinito Perché dice tutto Dio Perché Tutto quello che Dio ha fatto Perché tu possa dare Quel frutto È un'opera meravigliosa E rende quel frutto Cioè la tua vita Quella parola detta Quel silenzio Quel prendere il peccato Di quel fratello Quel perdonare Quello Lì dentro C'è tutto Dio Capito? Allora oggi In questa giornata Come in ogni settimana Come in ogni giorno C'è tutto Dio Da portare in processione Nella nostra vita Buona giornata